Vai, dove va? Dov'è? Eh avanti, 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 avanti per fare le guinzaglie. Dov'è? Metti un piede sul guinzaglio, piano. Dov'è? Ok. Avvicinati piano, piano Mario. Bravo, esaltalo, esaltalo col bravo. Ok, 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 va bene così, ottimo. Non glielo fa boccare? No. Vai avanti, vai avanti, è il bravo, vai avanti è il bravo. Ok, ok. Mario, mandacelo. Ottimo. Bravo, ripassa vicino all'osso col tartufo in mano, passa vicino all'osso col tartufo in mano, ma? Bravo Max. Faglielo vedere, faglielo vedere, bravo, dagli un bravo, fagli vedere il tartufo. Max. Ok, lancia il tartufo vicino all'osso, vai. Vai ancora, ancora, dai un no, ok vai. Bravo, il bravo Mario, Mario il bravo, non lo devi confondire. No. Ok, riprendi il tartufo, muoviglielo un po', muoviglielo un po', muoviglielo un po', muoviglielo un po' Mario, non ce lo manda sopra. Vai. Il bravo, ma? Bravo, bravo. Ok, 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 allontanati. Bravo.